Ciao ragazzi, oggi veloce unboxing di Gran Turismo 6, da quel che sembra veramente un gioco ben fatto, forse è il Gran Turismo che la Sony non è riuscita a fare con il 5. Il mondo è la tua pista, Gran Turismo è tornato con un livello di libertà talmente elevato da rivoluzionare per sempre il mondo dei giochi di guida. Affronti i tuoi rivali a bordo di oltre 1200 splendide vetture, sfreccia su nuovi tracciati reali come Silverstone, Brands Etch e Bathurst, si dice così? Sì? Oppure sui circuiti classici della leggendaria storia di GT. Uno o due giocatori offline, due sedici giocatori online, 1080p, così dice. Questo ragazzi, io che ho giocato un po' al 5, se avete un po' di soldi da spendere consiglio di giocarlo con un volante perché è veramente tutta un'altra cosa, con un bel Logitech, ma anche senza spendere una follia. Già un Logitech da 70-80 euro, la resa è allucinante. Siamo veramente curiosi, stiamo giocando anche a forza per Xbox One, che è veramente un ottimo titolo. Vediamo se dice qualcosa. Il manuale, beh, il manuale perlomeno c'è e c'è anche qualche pagina. Beh, vabbè, un po' di... quasi niente, però il manualino ce l'abbiamo. Una bella BMW in sfondo. E niente, ragazzi, state con noi che faremo un gameplay a breve. Ciao a tutti!